Luca, ho sentito tante belle parole in questi giorni, tante descrizioni. Si hanno dipinto come una persona magica. In realtà lui eri un ambasciatore esagerato. Eri veramente quello che si diceva. E per tutti noi erano orgogliosi come ambasciatore. Però noi ti conoscevamo prima che fossi un ambasciatore. E sappiamo tutto quello che eri ancora prima. Sia nel bene sia nel male, aveva anche più tue differenze, eri tue imperfezioni. E noi ne amavamo queste imperfezioni. Tu ci facevi ridere, ci manterrai. Tu eri un punto di riferimento per tutti noi. Anche se eri lontano eri vicino. Tu eri un sentimo di ridonandolo, un costruttore di polti. Ed io sono un ingegnere civile, te lo confermo. La tua partenza non diventerà un'assenza. Non piangere più, Luca, fratello mio. Caro Luca, il mondo più concreto che abbiamo per rendere onore al tuo sacrificio è quello di parlare da te. Guardare il giardino che è seminato e i preziosi frutti che già sono nati. Nel tuo messaggio locale che mi ha inviato per il discorso, le ore 18.06, eri entusiasta. E felice per l'acquisto da parte del nostro comune, della Villa Mediolato e del suo grande parco. Dedicheremo a te questo progetto che tu hai chiamato un sogno che si realizza. Grazie, Luca, per il dono della tua vita. Grazie per la tua amicizia. Grazie all'uomo delle istituzioni che ha amato gli uomini fino agli estremi confini della terra. Addio, ambasciatore di pace, amato figlio. Vogliamo ricordare anche il sacrificio del valoroso carabiniere Vittorio Iacovacci che ha pagato un po' la vita la difesa del suo ambasciatore. Ai suoi familiari va tutto il nostro portoglio. La tua famiglia. Una felicità che non guarirà mai. Si confortano tutti gli altri stati di stima e di affetto sincera ricevuti da chi già conosciuti e apprezzato per la tua semplicità, onestà e rispetto per gli altri a qualsiasi cito sociale appartenessero. Grazie a tutti.